Ciao ragazzi sono Falconer e oggi sono qua insieme Elisa per un nuovo scopriamo barra esclusi Dedicato a Rock Simulator Allora un grazie ad Antonio che è insomma origine di tantissime esperienze meravigliose Lui sa E mi sono portato l'accompagno perchè non so se da solo potrei farcela Quindi oggi c'è questo sexy rock qua Carino Stupid sexy rock qui Non è carino Che è un po' lascivo su quel divano Io mi sento stuzzicato Vabbè vediamo cosa ne esce Play Ah c'è anche il multiplayer? In arrivo coming soon Con questo punto interrogativo Ci lasciano un po' così appesi Che lascia questo allure di mistero Allora No abbiamo solamente Di livello vabbè però salendo di livello Le pianure Ma sta caricando? Non penso Sta caricando Pure te Non penso Perché Perché L'intellettuale Non penso No quanto ci vuole Non penso Chi prendi te Ok Ecco Come Ah 해� carichamento succedono cose, per cui durante i caricamenti sta attento. Succedono cose? Per quanto riguarda subentrare subito, non succedono bisogno. Alla 007. No! Quello era un sasso, ma non c'è un altro! Ma secondo me non sta a caricare. Sono i giorni che passano, è più buio! Tutto questo è un caricamento, non è un caricamento! 328, infatti, prima era 327! Ma che cosa? Ti giuro! Ma che cosa? Ma non è un caricamento davvero? Scusa eh. Perché? Scusa, a me no... Pensavo, infatti, dicevo, ma che caspita dovrà mai... Ma le sfide quali sono? Non perdere la pazienza! Come diceva? Retch! 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 Raggiungere! La piccola dice un resume! Resume! Invece si dice resume? Eh? Si dice resume? Resume! Ma che cosa? Ma perché? E' un gioco di sassi, non di inglese! Però la gente vuole che io legga in inglese! Si si, questo? Challenges! Ah, Challenges! C'è sempre questa pena un po' a... Alla Troia... Alla Troia McClure! Ehm... Perché ogni tanto... Vabbè, comunque, è un gioco, è un quadro! No, ma non capisco... Brava, premi, premi... Premo, provo! Cioè, sono... Ma... Almeno, almeno la telecamera... Bah... Non si può... No... Vediamo, 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 vediamo fino alla fine se va a 3.29... Infatti adesso dovrebbe essere un po' più buio di prima... Però hanno un ciclo giorno-notte che è superiore a quello di tanti altri giochi AAA che io ho provato, eh! Ah, ha detto! Si, si! Qui, alcuni sviluppatori di primo, di primo pelo, dovrebbero impararli questi cicli giorno-notte! Però non si muove l'erba! Anche con le nuvole non è... Infatti si muovono! Si muovono? Si! Non è male il cielo, vediamo! Ehi! 5.59! Eeeh! E quindi? Perché da 328 a 5.59? Abbiamo più sassi! Non ha senso! Eh, in pratica, si accumulano sassi ogni volta! Eh, ma su quali basi non ha senso? Su la base del... 5.000! Ah no, invece... Rich! Beh, ma in pratica, cioè, il gioco come si svolge? Che tu lo avvii e poi vai a fare altro e poi turni a fare i punti? È un cosa, è un save... Screensaver? Screensaver! Manco screensaver! Io veramente non ho... Mamma mia! Oh! Stavo arrivando! Oh! Erano i soldi! Gli hai fatto il vestito! Ah ah! Pimp my rock! L'ho pimpato! Vabbè! Carino! Beh, ti ha decollata l'esperienza, eh! Questo cambio di abito! Bene! Eeeh... Adesso c'è il tramonto! Infatti, è bello! È bello! È bello la luce sul sasso! Tu... Tu stai... Ti stai... Ti stai realmente esaltando? Mi piace! Non è fatta male! No! Ah 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 ah! Potremmo fare... Parla! I critici! I critici! L'ombra! Cosa vorranno simboleggiare con questo? Ma parlaci dell'ombra! Tu che hai fatto il risultato d'arte! Mi piace questo colore chiaro! Interpretamelo! Questo chiaro-oscuro con il tramonto rosato di Ed! Pam pam! Ma secondo te il ramo a fianco, marrone, è voluto? È voluto? Che cosa ci vorranno dire? Questo marron... Marron color... Color... Sasso! Sasso! Ma il sasso non è marrone, in origine! Color tronco! Tron... Tronco! Tronco! Color tronco! Color tronco! E questo color tronco cosa... Che cosa sta a significare per l'artista? Che una volta c'è... Che una volta c'era un albero! E questa forma fallica... Cosa può... Ma dove? La forma fallica! Non vedi la forma fallica che si... Che si è? No, per me sembra... Che si falla! Sembrano due... Due... Eh... Stuzzicadenti! Stuzzicadenti! Che ti pulisci i denti? Ma le montagne erano già innevate prima? No! No! La forma fallica! Le montagne innevate! Quindi dai! Quindi anche come stagione! E quindi... Cambia le stagioni! Sembra Bobbonoli... Vabbè! Signori! Io direi che la... Intanto aumentano i sassi! Aumentano i sassi! Beh... Beh... Io guarda stare qui tutto il giorno insieme a te a commentare sassi, forme falliche e monti innevate! Passiamo! Però... C'è anche il coso, il multiplayer! Forse! Quelli basi! Livello 10! Eh... Arriva c'è! Vabbè! Io direi che potremmo anche fermarci qua! Lui parte da casa! Lui parte da casa! Come tutti! Ah! E' geniale! Il momento Inception! Lui si osserva! Lui si osserva! Quindi diciamo sassi! Quindi il sasso, il sasso siamo noi! Comunque è carino dai! Non è male!